Enzo, può l'Inter ambire a vincere la Champions? L'anno scorso è arrivata in finale anche con un pochino di fortuna, però poi la finale se l'è giocata bene rispetto a un avversario indubbiamente più forte. Può ambire a vincerla? L'Inter in Zaglia ha dimostrato che è una squadra più da coppa che da campionato, anche perché non si spiega in Italia, avendo avuto tra le mani la squadra migliore negli ultimi due anni, non si è riuscito a vincere lo scudetto. Quest'anno credo che abbia ancora la squadra migliore e vedremo se porterà a casa lo scudetto. Evidentemente è una squadra più da strapi, penso che se avrà un po' di fortuna nei sorteggi, perché è ovvio che se agli ottavi becchi una delle due o tre più forti puoi uscire tranquillamente, però se sarà assistita anche da un po' di fortuna credo che i quarti assolutamente sono raggiungibili. Poi dopo i quarti anche lì dipende dall'avversario, però i quarti li puoi raggiungere. È una squadra secondo me fatta principalmente più per la coppa che per il campionato, però nella serie italiana che è veramente disastrosa, a parte il Napoli l'anno scorso che ha avuto un'impenata incredibile, è il campionato del Ciappanò. Se quest'anno non vinci lo scudetto, Inter secondo me non ci siamo. Borsellino, ci credi alla possibilità, o meglio ritieni che l'Inter abbia maggiori chance rispetto all'anno scorso? Onestamente no, nel senso che sicuramente il primo obiettivo quest'anno della società, della squadra e anche del tecnico, che lo vanno sbandierando ogni conferenza stampa, è lo scudetto. Quindi quello è l'obiettivo numero uno. Poi chiaramente il girone quest'anno è un girone abbordabile, quindi se sei riuscito a superarlo lo scorso anno, a maggior ragione dovrai dare qualcosa di più quest'anno. Il primo vero obiettivo, oltre il campionato, secondo me è quello di centrare gli ottavi di Champions, che ti porterebbero poi a giocare il Mondiale per club. Poi dovessi superare gli ottavi di Champions, come diceva Enzo, affiancato da un sorteggio benevolo, poi può succedere di tutto in Champions League. Però in questo momento l'obiettivo numero uno è il campionato, secondo me è chiaro che se fai la domanda al capitano Lautaro Martinez, lui ti diceva, certo ovviamente non partiamo battuti, però onestamente la vedo molto difficile quest'anno. Scanziani, rispetto a, tenendo conto anche delle avversarie, ci sono le due spagnoli che sono sempre pericolose, comunque le inglesi, l'Inter può avere acquisito, andando in finale l'anno scorso, anche quella consapevolezza, quell'autostima che le può consentire quest'anno di affacciarsi a questa Champions con un, diciamo, maggior autorevolezza, con una maggiore convinzione di poter arrivare in fondo, anche se chiaramente è molto difficile. Beh, è chiaro che essere arrivati in finale lo scorso anno, avere avuto anche una mezza possibilità di vincere anche quella partita, o perlomeno di andare ai rigori, e quindi un po' di presunzione ce l'avranno, io spero, in modo che anche da domani e per tutte le partite che faranno in Europa, un po' di presunzione di pensare. Di presunzione buona però, sono convinti. Convinti di poter vincere anche in casa e anche fuori, cioè è qualcosa in più che ti dà la strada che stai facendo, siccome lo scorso anno la strada in Europa è stata eccezionale, perché arrivare in finale è stato sicuramente un grande obiettivo, spero che gli abbia dato una sicurezza in più rispetto a quello che invece fanno anche in campionato, che lì più o meno ce l'hanno già, l'anno scorso ha vinto a Napoli perché ha fatto qualcosa di fuori dal mondo. No, ha vinto a Napoli l'anno scorso perché i primi 3-4 mesi dell'Inter sono stati una roba inguardabile, cioè proprio una roba che non si poteva vedere. Sì, ma anche perché loro hanno stravinto il campionato. Ho capito, ma tu hai fatto i primi 4 mesi che era una roba allucinante, cioè la condizione fisico-atletica dell'Inter di quest'anno, rispetto a quella dell'anno scorso, quest'anno stanno 10 volte meglio, cioè ragazzi ma l'anno scorso sono stati fatti degli errori mica da ridere. Quando si parla di imparare i propri errori, quest'anno anche la preparazione atletica in quest'estate è completamente cambiata. I giocatori, lo dicono, hanno fatto praticamente quasi sempre doppi allenamenti, sempre, in continuazione. Qualcosa evidentemente Inzaghi ha capito di aver sbagliato l'anno scorso, però io vedo l'Inter quest'anno con una consapevolezza diversa. Cioè gioca a memoria, gioca con sicurezza. Pur avendo perso le due punte che facciano un po' la differenza. E diciamo il gruppo gioca con una cattiveria diversa. Per esempio sabato allo stadio, io ero allo stadio, anche quando ho assegnato il Milan, non ho mai avuto paura o avvertito il timore che il Milan potesse partire la partita. Eh vabbè, ma il Milan è stato una roba imparazzante. Perché comunque l'Inter, pur avendo preso il gol, si vedeva che era in controllo totale della partita. Come poi è il risultato, eh? Sì, erano già quattro derby di fila che... No, ma lascia perdere il derby. No. Parlo anche delle tre precedenti. Certo, però siamo all'inizio del campionato e soprattutto la cosa che lascia ben sperare i tifosi dell'Inter e come dici tu, avere una solidità e un gioco che è anche migliorato, se vogliamo, rispetto all'anno scorso all'inizio. E c'è più certo. Quello che mi lascia perplesso dell'Inter però è la poca profondità dell'attacco. Beh, dell'attacco. Nel senso che adesso si è giocato una volta alla settimana e quindi problemi non ne hai visti. Da adesso in avanti, quindi che si giocherà ogni tre giorni, è impensabile che giochino sempre i due attaccanti. Vuoi per anche semplicemente un piccolo infortunio? Però i due o tre che ci sono come sostituenti non sono mica male. Sì, però scusate, l'Inter non si è rinforzata. Ma l'Inter non si è rinforzata, però io l'ho già spiegato. No, a centro capo secondo me sì. No, secondo me non si è rinforzata. Allora, l'Inter era una squadra forte e forte è rimasta, cioè per vincere lo Scudetto lo può vincere tranquillamente. L'ho detto in Italia, in Europa e nel mondo e ve lo spiego. Cioè, è stato venduto Brozovic ed è stato preso Frattesi. Ok, ruoli diversi però... Che è meglio. Meglio. No, no, meglio no. Io dico che... Cioè, è stato fatto un cambio a centro campo a livello numerico, due giocatori di qualità. Però attenzione, c'è una grande differenza. Sì. Perché l'Inter aveva il doppio regista, quindi aveva Brozovic e Cialanoglu, i quali tutti e due potevano fare o i registi o la mezzala. Ok? Manca uno, manca l'altro e è ricoperto al 100%. Adesso, se manca Brozovic, visto che Aslani... No, non c'è Aslani. Aslani al momento... Non c'è, c'è, domani c'è Aslani. Ho capito, però dovremmo vedere Aslani se riuscirà a giocare bene o meno, perché se dovesse sbagliare mezza partita, Aslani non gioca più e dopo tu hai un giocatore in meno. Quindi è peggiorato. No, è rimasta uguale, ma non si è rinforzata, no, mentre è peggiorata davanti, questo sì. Perché tu potevi avere adesso, potevi avere Lautaro, Thuram e Dzeko, che è un po' meglio di Arnautovic, se non ci fosse stato il problema di Lukaku, Dzeko sarebbe al posto di Arnautovic e allora saresti coperto al 100%. Però possiamo dire che l'Inter è migliorata globalmente se guardi i 22-23. L'anno scorso l'Inter aveva un ottimo 11, anzi 13-14. Le alternative non erano... Sarebbero quest'anno le alternative favillanti. Quest'anno esce Di Marco, entra Carlos Augusto. Vabbè, ma lo scorso avevi Gersens, avevi Gersens. Nel bienio all'Inter non ha fatto delle grandi cose. Mentre Carlos Augusto già lo sconsano a Monti. Sì, ok, Roberto Carlo. No, non sto dicendo che Roberto Carlo, è un'alternativa a Valle. Sì, ma avevi Gersens, quindi ripari. Hai frattesi in mezzo al campo. Sì, ma non hai più Brozovic. Ho capito, ma piuttosto di vedere entrare Gagliardini, Enzo, preferisco vedere entrare frattesi. Eh no, perché lì entrava Brozovic, dice lui. Ragazzi, l'Inter non si è rinforzata, ve lo dico. Ma comunque l'Inter può vincere lo scudetto tranquillamente. Ah, ho vinto la bondità della rosa, però. Il Milan, cioè... Io ho visto anche Barella fare il posto di Brozovic, eh. No, no, no. Sì, ma non è mai andato molto bene Barella. Ma non può giocare il Barella, dai. Ma c'è Aslani, diamo fiducia ad Aslani. E infatti domani gioca Aslani. Andiamo a sentire però che cosa dice Inzaghi e rispetto alle parole di Guardiola e in generale della prospettiva sul percorso in Champions. Guardiola che qualche giorno fa ha detto l'Inter è una seria candidata ad arrivare di nuovo in finale. Vediamo che cosa risponde Inzaghi. Quanto riguarda le parole di Pep, chiaramente fanno piacere. Sappiamo come è andata la finale di Istanbul che è stato un grande onore giocarla. Probabilmente l'episodio avrebbe potuto anche cambiare la fine di quel match, però ci siamo lasciati dentro un qualcosa di speciale con i ragazzi quella serata, l'abbraccio finale con i nostri tifosi che sembrava che avessimo vinto. Quindi un grandissimo ricordo, un onore il percorso fatto, le serate che abbiamo vissuto lo scorso anno in Champions. Quest'anno ricomincia, ricominciamo contro una squadra forte in un campo molto caldo. Chiaramente Sociedad e Newcastle delle squadre in quarta fascia erano le due che avrei preferito evitare, però ce la giocheremo insieme a tutte le altre, come abbiamo fatto lo scorso anno, sapendo che sarà difficile rifare quello che abbiamo fatto, ma per quello che abbiamo vissuto insieme ai nostri tifosi vogliamo riprovarci. L'ha presa bene la cosa che gli ha detto Guardiola, perché obiettivamente Guardiola è anche un furbacchione, ti mette pressione nel momento in cui dice se una seria candidata ad arrivare ancora in finale gli mette pressione. Lui invece è stato bravo a girarla in positivo. Questa è un'iniezione di fiducia. Lui è furbo, rimarca le parole di Guardiola per lanciare un altro complimento al proprio gruppo, per far gonfiare il petto ulteriormente ai suoi giocatori. Quindi anche lui sa che l'anno scorso se non ci fosse stato quel sorteggio magari non sarebbe finita così. Però alla fine siamo arrivati in finale e ce la siamo giocata. Allora, domani non ci sarà Cialanolu che è infortunato, per cui non è stato neanche convocato. Andiamo a vedere la probabile formazione perché giocherà Aslani. Lo ha annunciato in zaghi e per caricarlo ha detto che è un giocatore dello stesso valore di Cialanolu. Mentendo, sapendo di mentire. No, diciamo che da più parti era invocato l'impiego di Aslani. Dietro dovrebbe tornare a titolare De Vrij. C'è la possibilità di vedere Pavard dall'inizio. A centrocampo sicuramente Dunfris perché il quadrado non è disponibile. A sinistra ballottaggio Carlos Augusto Di Marco ma potrebbe avere una chance Carlos Augusto. A centrocampo poi certo Aslani sono in tre per due maglie e potrebbe riposare Mkhitaryan. Davanti c'è la possibilità di vedere Arnautovic e non Turan. Quindi se la formazione fosse confermata questa le indiscrezioni danno questa fa un turnover anche discretamente consistente. Un po' però è obbligato a farlo perché ad esempio Cialanolu non è infortunato quindi lo deve sostituire per forza un po' per evitare sovraccarichi ad elementi come può essere ad esempio il caso di Mkhitaryan. Però considerando che è la prima partita di Champions dove comunque partendo quei tre punti parti già con un gran bel vantaggio mi sembra un po' parecchi cambi perché Aslani è chiaro e evidente come ho detto prima non è più Brozovic quindi o gioca Ciala o gioca Aslani che però lo devi provare in quel ruolo. Aslani in realtà è una mezzala barra... Però è stato preso per far quello. Già all'inizio. Non è detto che se lo prendi per fare un ruolo sia il ruolo corretto. Secondo me Aslani è sempre detto che è un giocatore bravo e mi piace nell'Empoli in quella zona lì non ricordo di averlo mai visto giocare nell'Empoli di Andrea Zoli che ha fatto cose grandissime. Che peraltro da oggi è ufficiale è tornato sulla panchina dell'Empoli come dicevamo domenica che c'era la possibilità... Quindi Aslani è stato preso per quello ma il ruolo suo a Empoli non l'aveva mai fatto siccome Cialanoglu se non ricordo male aveva qualche anno in più quando è andato all'Inter e gli hanno modificato il ruolo e poi lo ha fatto bene come lo stesso Brozovic che è una mezzala e gli hanno trovato. Cioè tu praticamente domani non rischieresti Aslani? No, no, Aslani sì. Aslani lo rischierai perché è l'unico classe... O ci metti Mkhitaryan che però a quanto pare lo vuole far riposare o ci metti Barella che quel ruolo lì l'ha fatto ha provato a farlo non con grandi risultati o ci metti Klaas. No ragazzi forse mi sono spiegato male Aslani deve giocare lì perché lo deve imporre in quel ruolo detto ciò non avrei fatto tutti gli altri cambi di Carlos... per dire contemporaneamente non farei Carlos Augusto Arnautovic Pavard e Fratesi mi sembrano un po' troppi cioè togliere 4-5 giocatori da quella formazione base mi sembrano veramente tanti a parte Aslani che deve giocare per forza. Però posso dire una cosa secondo me in questo momento qui è il momento in cui Inzaghi può permetterselo invece perché? Perché secondo me oltre al fatto che l'Inter comunque ha acquisito una sicurezza maggiore questo è assolutamente vero non c'è dubbio sanno stare in campo molto meglio rispetto a un anno fa secondo me è ovvio che hanno della consapevolezza in più ma soprattutto proprio in virtù di quella preparazione fatta in un certo modo stanno a bomba per cui adesso stanno bene tutti possono entrare cambiare fare 4-5 secondo me questo è un momento così perché il problema dell'Inter eventualmente sarà capire se può fare una stagione intera avendo questa prestazione a questo livello perché solitamente quando tu parti forte a un certo punto un po' cali in qualche modo cali a livello fisico sto dicendo l'anno scorso l'Inter è partita male ma poi quando doveva andare andava con un treno e no però ragazzi adesso però dobbiamo finirla qua scusate finiamola se vuoi aslani ho sempre detto secondo me che è un giocatore molto bravo io non ho parlato di aslani no no te lo spiego se tu metti aslani al posto di Cialanoglu con la formazione titolare è una cosa se tu metti aslani insieme ad altri 4-5-9 nuovi non è la stessa cosa il problema che domani potrebbe essere che aslani non gioca una buona partita perché non riesce a trovare comunque i movimenti dei compagni che abitualmente ci sono o no Sandro ma scusami però tu intorno ad aslani hai frattesi e barella che in questo momento stanno molto bene per cui comunque aslani si trova come un pulcino non è così non crea tanti problemi ma non è il gioco della dama lo capisci o no non è il gioco non funziona così aslani deve giocare una partita un po' tre con tutti gli altri titolari e dopo lo valutiamo è facile domani criticarlo perché non gioca bene con tutti i giocatori che non sono i titolari scusa ma perché deve giocare male però Edzo perdonami scusate perdonami di questa formazione che stiamo vedendo sono i sei no ma i due non titolari perché poi alla fine io dico De Vrij e Acerbi sono due che sono entrambi titolari Pavard l'hai preso per fare il titolario sì ma non ha mai giocato una partita nell'Inter Pavard è un giocatore che ha esperienza ma non ha mai giocato una partita nell'Inter gli unici che sono possiamo dire due non titolari in questo momento sono Frattesi e Carlos Augusto anche Arnautovic sì Arnautovic vabbè hai detto niente ce ne sono sei nuovi no effettivamente se li cambia tutti Pavard e De Vrij al momento non sono titolari sì ma De Vrij è uno che si alterna molto con Acerbi sì però Frattesi e Aslani non sono titolari Carlos Augusto e Arnautovic sono gli altri peraltro i ballottaggi sono Carlos Augusto Di Marco Frattesi Mkhitaryan Arnautovic cioè quello che io voglio dire la difesa quello che voglio dire è che se io voglio concedere una chance ad Aslani perché l'ho comprato per fare quel ruolo io la chance gliela devo dare bene lo devo consentire di mettersi a proprio agio Sandro cosa dici tu metteresti Mkhitaryan non frattesi no allora ragazzi io farei giocare prevalentemente alla fine a parte la difesa cioè se decidi diciamo di costruire attorno ad Aslani un po' di comfort zone deve giocare Mkhitaryan e non frattesi Di Marco e non Carlos Augusto Turam al posto di Arnautovic no ma se voglio valutarlo bene lo devo mettere con la formazione titolare perché poi dietro cioè giocano comunque due Pavard e De Vrij ma la difesa è relativa la difesa è un'altra cosa io parlo del centrocampo in avanti ci può stare il cambio di una punta la difesa è un'altra cosa però lui gioca davanti alla difesa per cui è importante anche la difesa non solo il centrocampo è davanti nella costruzione del gioco ok ma nella fase difensiva sa che dietro ce ne sono altri due che non ci sono sempre magari domani finisce la partita magari l'Inter speriamo che vinca come abbiamo sperato che vincesse il Milan ok quello che vuoi magari Aslani ha fatto una partita non da Cialanoglu ebbè ma Cialanoglu è il più bravo sì ho capito ma Cialanoglu sarà anche più bravo ma gioca sempre con Marella da una parte con Mkhitaryan che è un fenomeno di giocatore a livello tattico e via dicendo è la musica diversa eh amici miei se tu vuoi che lui dia il 100% lo devi mettere con i 10 titolari eh bravo inizia da fare perché se ce ne sono 5 o 6 in difficoltà perché è la prima partita che fanno una responsabilità nettamente superiore quando entri l'ultima mezz'ora o 20 minuti questo vale per tutti ma scusami Alessandro scusa una cosa però cioè vuol dire che se si rompe Cialanoglu essendo Aslani un ragazzo giovane che non ha ancora certezze sicurezza eccetera tu non puoi fare il turnover cioè se si rompe Cialanoglu tu il turnover non lo fai più però questi devono giocare una partita ogni 3 giorni per una 2 3 partite cerco di non farla perché in modo che gli do a lui la possibilità di crescere oppure 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 scusa il turnover lo faccio fare a Cialanoglu e metto dentro Aslani ha detto esattamente rispetto alla domanda relativa al fatto che mancava Cialanoglu ha detto è un'assenza importante sappiamo che importanza ha per noi mancherà anche quadrado nel ruolo di Cialanoglu abbiamo Aslani un elemento importante tante società ce l'hanno chiesto ma abbiamo deciso di tenerlo siamo contenti di averlo fatto ritiene Aslani pronto per una maglia da titolare sì ha già giocato partite importanti è pronto come tutti gli altri domani farò le scelte di formazione e quant'altro per cui poi questo in conferenza stampa a margine un'intervista a margine aveva detto Vale Cialanoglu questo lo deve dire anche se magari non lo pensa non è al 100% cioè lo deve dire perché a meno gli dà una possibilità ai propri giocatori di dare il 100% poi scusa vuoi mettere giocare a Ioslani vuoi mettere a avere come compagno di reparto Mkhitaryan con tutto il rispetto di frattesi cioè Mkhitaryan ma pensi invece che possa aver preso in giro tutti che fa tutta sta pretattica elogia Aslani e poi invece magari domani Cisoprini lo lascia fuori no no ma se lo lascia fuori vuol dire che come tirargli una martellata sulla roba di no perché sarebbe proprio democchio l'altro lo ha provato oggi lo ha provato forse non mi sono spiegato Aslani deve giocare ma lo deve far giocare secondo me qualche partita il signor Cialanoglu deve rimanere fuori Aslani al posto di Cialanoglu ma giocherà sia domani che giocherà domenica con l'Empoli sul fatto che l'Inter anche a centrocampo si è indebolita perché se l'anno scorso avevi Aslani comunque ce l'avevi avevi Brozovic avevi Cialanoglu che quando si è fatto male Brozovic l'ha inventato a giocare come regista basso davanti alla difesa avevi tre giocatori potenzialmente per un ruolo ora ne hai uno e uno che non sai com'è hai tre giocatori potenzialmente per un ruolo come Mezzali cioè non ce l'hai come regista di difesa cioè in realtà hai spostato diciamo la bondazione ma il regista tu non hai la sicurezza che sia veramente un regista Aslani non ce l'abbiamo perché ripeto io lo conosco come Mezzala o nel 4-3-1-2 era l'uno ma non l'avevamo neanche per Cialanoglu che fosse un regista ma Cialanoglu anche a un'altra età e vabbè però per Cialanoglu la differenza è che per Cialanoglu non ce l'avevi che fosse un regista però ce l'avevi con certezza da Mezzala Aslani non ce l'avevi Cialanoglu il primo anno di Zaglia ha provato a fare il sostituto di Brozovic con risultati orripilanti però ci sono dei giocatori che hanno 20-21 anni che è meglio metterli nel ruolo dove hanno sempre giocato quello di 27-28 magari dopo un po' qualche partita è tornato indietro c'è un compagno che si è fatto male e va lui a occupare il suo posto se io parto dalla mia esperienza io ho messo dal 2 all'11 tutti per cui vuol dire che potevo giocare per quello che sapevo fare più o meno in tanti ruoli e lo dico adesso che ci sono le registrazioni ecco andiamo a vedere i numeri della Real Sociedad che in campionata è undicesima ha 6 punti frutto di una vittoria 3 pareggi una sconfitta ha perso però con Real Madrid ha fatto 8 gol ne ha subiti 7 Enzo quale può essere diciamo l'insidia di questa partita considerando che come diceva in Zaghi la Real Sociedad era in quarta fascia non è magari una squadra con una grandissima tradizione in Champions cioè non è per capirci Real Madrid o Barcellona però sono sempre partite insidiose adesso io non voglio mettere paura a nessuno sia chiaro ma io ho giocato contro le squadre basche vi posso garantire che ho preso tante di quelle botte che ancora oggi pago le conseguenze detto questo ma in che senso detto questo sono squadre che giocano in maniera dura entrano sulla palla forte fino all'ultimo respiro anche scarsi magari tecnicamente o non con delle idee da Barcellona di Guardiola però dicendimi però è una squadra che la puoi prendere con delle belle giocate in velocità sicuramente riuscirai a arrivare sul fondo quindi mettere la palla bella veloce per il centrocampista che arriva o per l'attaccante che fa il movimento giusto però io credo che domani te la dovrai sudare veramente sotto l'aspetto agonistico e del temperamento quindi entrare molto decisi perché non è da prendere con le molle non come valore globale di squadra sia chiaro a livello tecnico però credo che alla fine l'Inter i tre punti li porterà a casa tanto vabbè è successo una roba incredibile non l'ha vista Enzo la possiamo anche dire perché ha segnato Provedel al quinto minuto dei quattro di recupero ha segnato Provedel il portiere della Lazio per cui Lazio che pareggia con l'attacco ma ce l'avete già lì però guardalo lì esatto era in proiezione offensiva tra l'altro si è inserita la palla di Luiz Alberto è più bravo come centroavanti che come portiere no dai no scherzo è un buon portiere Provedel è finita così è finita la partita pazzesco incredibile Provedel non ci crede incredibile Paris Saint Germain che invece manca un minuto non me lo ricordo cioè in campionato sì ma in Champions gol del portiere eh sì bisogna pensarci un attimo questo è il girone della Lazio quindi Feyenoord Atletico Madrid Lazio appunto e Celtic Paris Saint Germain che invece nel girone del Milan sta vincendo 2-0 contro il Dortmund gara che non è ancora finita manca un minutino scarso 6 minuti di recupero siamo a 5-14 per cui direi che insomma sembra abbastanza definita relativamente a questa gara complimenti a Provedel sì devo dire che le belle statuine dell'Atletico che dice Stanto non la prenderà mai invece la prende attenzione però perché mi sono ricordato il primo allenatore di Provedel quando è andato alla Lazio ha raccontato che lui faceva il centravanti faceva l'attaccante poi l'ha messo in porta infatti l'ha dimostrato direi che qualcosina si è infatti ha fatto il portiere quando va in zona offensiva crea sempre un po' di scompiglio perché col fatto che di solito è molto alto chi lo marca insomma anche perché prima della partita quando la prepari è stato bravissimo non è stato un caso perché di solito quando i portiere vanno a saltare o gli picchia la palla proprio ad osso lui invece ha fatto il movimento d'attaccante vero perché non è frontale ha fatto proprio l'incornata laterale complimenti bravo bravo allora siamo in conclusione